Ciao amici, benvenuti nella splendida cornice del salottino rosa. Allora, è molto difficile stare in casa in questi giorni anche se lo facciamo e lo dobbiamo fare, però possiamo impiegare il nostro tempo ad esempio in modo creativo. La creatività per me è sempre stata una cura. Io credo di non essere troppo lontana dalla verità se dico che questo vale per tutti gli esseri umani, cioè mantenere viva la volontà di fare. E allora, se vogliamo impiegare il nostro tempo, certamente di cose da fare ce ne sono tante, ma se vogliamo impiegarle in una maniera creativa, io adesso vi propongo un progetto che è facile, one, economico, two, e fatto, realizzato con cose che abbiamo in casa, cose che sono sotto mano, poi anche molto veloce, molto, anche scaccia pensieri, ecco, una cosa veramente graziosissima, che sfrutta quello che abbiamo, che un pochino ci distrae, ne abbiamo anche bisogno, e che ci tiene attivi. E allora vi lascio a questo facile e bel tutorial, me lo dico da solo, chi si loda, si imbroda, però amici, vi saluto e occhio al tutorial. Che cosa ci serve? Semplici grucce, precisamente una, le classiche grucce di ferro che ci vengono date in lavanderia, è probabile che una ne abbiamo anche in casa, giusto? Poi servirà un martello, molto probabilmente una base su cui martellare, qualsiasi, un filo, un nastro, un accordo, un nastrino, una passamaneria per decorare, della colla caldo, ma va benissimo anche un biadesivo, una colla qualsiasi, e ricicliamo le lucine di Natale, le micro lucine, sia quelle a batteria, sia quelle elettriche, decidete voi. Allora, questo disegno giottesco che vedete è la nuvoletta che intendo fare, che avrà una base un pochino, diciamo, piatta, per poter essere appoggiata, e poi la nuvoletta vera e propria. Questo è il lato su cui agiremo, la parte superiore. Come ho fatto? Ho usato una tecnica che definirei mista, ovvero il martello, anche se un po' scomodo, anche perché questo è un martellino, è quello che uso per il lavoro, è veramente un martellino ino ino ino, però, insomma, si può provare, altrimenti la cosa più facile è la pinza, una pinza piatta, con le ganasce piatte, in modo da appiattire, per l'appunto, gli angoli della gruccia, in questo modo, come vedete fare a me. In qualche punto un pochino più duro, non fatevi male, io sono abituata, ma mi raccomando, alle mani. Allora, siamo arrivati ad ottenere una forma parziale, come vedete. Ora, si tratta di disegnare il profilo della nuvoletta. Gli angoli li ho ricavati con la pinza, ovviamente, mentre ho disegnato un po' con le mani, però, ecco, non è raccomandabile per chi ha problemi con le mani, come me, però l'ho fatto lo stesso, e ho usato un oggetto di uso comune, che abbia una forma arrotondata, per avere questi, questi puff, li chiamerei queste parti arrotondate. Quindi la pinza per fare l'angolo, e poi qualcos'altro, un oggetto di uso comune, dalla forma rotonda, rotonda scalare, insomma, vedete voi, e ottenete la nuvoletta. Intanto io qui sto combattendo letteralmente con gli angoli e disegnando la forma, vedete. Ad un certo punto non potrete più migliorare più di tanto la forma. Ah, vorrei farvi vedere che io ho usato anche un mandrino per bracciali, però, guardate, è stato poco utile. L'ho inserito nel video, vi mostro un po', ecco, nel caso abbiate un oggetto simile, più o meno, può essere un tubo, qualsiasi cosa, sì, ho usato anche questo. Molto scomodo, però, per fare le riprese, molto scomodo. E questo è un mandrino classico. Allora, vi dicevo che, arrivati ad un certo punto, bisogna per forza intervenire sugli angoli, quindi appiattire gli angoli estremi della nuvoletta ed ottenere qualcosa di più arrotondato, vedete? Sempre con la pinza. La cosa più facile è una pinza con le ganache piatte. Dopodiché, da quell'angolo torno dentro, cioè faccio un angolo all'inverso, all'interno della figura, vedete? Ci siamo quasi. Quindi questa è la forma, direi, definitiva, abbastanza soddisfacente. E poi faccio questo disegno, questa parte più piatta, perché possa stare in piedi la figura. Allora, adesso passiamo alla decorazione, che è facoltativa, però, insomma, ci sta molto bene. Io avevo questa corda colorata di giallo, che è molto bella, e ho deciso di utilizzare della colla caldo. Ripeto, se avete della colla di altro tipo, una presa istantanea va benissimo, va bene anche il biadesivo, piuttosto forte, però, eh? Qui fisso l'inizio e poi comincio a girare. Ho tagliato un tratto di corda, un pezzo di corda veramente molto lungo, e quindi ho avuto qualche difficoltà a girare intorno alla figura, perché sarà stato un chilometro di corda, però, insomma, mi è bastato, in effetti, per fare tutta la figura, piano piano, vedete? Giravo intorno, facevo giri serrati, e di tanto in tanto mettevo una punta di colla caldo. Quindi, non per forza, per tutto il perimetro, soltanto dopo aver fatto quattro, cinque, sei giri. Vedete? Qui è molto accelerato, c'è anche il tavolo che balla un pochino, abbiate pazienza, ma non si sa perché, adesso questo tavolo è da sistemare. Allora, gira che ti rigira, prende forma, anzi, si decora la nuvoletta, e guardate come sta bene, con questo profilo giallo. È una corda, io adoro il giallo, poi è una corda anche molto bella. Dunque, eccola qui. Adesso siamo arrivati alla fine, amici, quindi devo fermare, chiudere, cioè il lavoro, e tagliare il lembo di filo che avanza. Come faccio in questa immagine? Fatto. Adesso dobbiamo applicare le lucine. Come vi dicevo, possono essere sia a batteria che ad elettricità. Non vi dico per riuscire a districare questa matassa. Mi lascio solo ad immaginare. Immaginare, anzi. E quindi ho avvolto il filo con le micro lucine LED tutte, tutte intorno. Poi potete decidere se lasciare, io ho stretto un pochino le lucine, come vedete, però se volete potete lasciarle anche più distanziate tra di loro, in questo modo. Et voilà. Abbiamo fatto la nostra nuvoletta. Non ci resta che accendere la luce. Grazie. 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 Grazie.